ACCOMUNATE IN ESPERIENZE CONTEMPORANEE Insegnamenti apporti fenomeni cerchio e seno attraverso NT Raggio, sebbene la maturazione spirituale non è legata unicamente e necessariamente all'esperienza nella materia, parentesi ben limitata di un più vasto processo di più ampia e sostanziale portata, tuttavia tale esperienza è di esso fase essenziale ed intensa. L'entità infatti trae dalle esperienze da incarnata spunti concreti ed efficaci ai fini dell'espansione dell'io individuale sia in quanto a conoscenza sia in quanto a morale. Conoscenza e morale che, come accennato, sono i termini binari di sviluppo del processo evolutivo. E' proprio nell'incarnazione che moltitudini enormi di entità dei più svariati livelli evolutivi vengono a trovarsi accomunate in esperienze contemporanee con l'effetto altamente positivo dell'influenza dei livelli evolutivi superiori su quelli inferiori. Così si perpetua uno degli elementi essenziali dell'evoluzione, la dinamicità. In mancanza si determinerebbero condizioni di ristagno e di sterile appiattimento, in contrasto con l'operosità perpetua ed eterna delle leggi divine. Più avanzato è il livello di maturazione di una collettività, maggiore è l'insieme di individualità che soggiace a quella influenza. Collettività intesa come gruppo, popolo, razza e così via, fino ai mondi. Né il rinvenimento delle vestigia di remote civiltà deve essere spunto dell'erronea supposizione di un processo involutivo e regressivo in quanto alla distruzione o addirittura l'autodistruzione, che è indizio di sublime olocausto, non implica affatto che quella civiltà è definitivamente perduta.